Un ISEE su 8.000 euro, saltuari lavori di muratura, separato e con due figli di 20 e 17 anni affidati a lui da quando ne avevano meno di 10. Roberto, 49 anni, è stato tra i primi a ricevere il reddito di cittadinanza. 706 euro caricati sulla tesserina gialla che ha potuto ritirare alla posta lo scorso 27 aprile. Quando alzi la mattina, sei più sereno? Beh, rispetto anche al Ray era intorno alle 250 euro, un bel po' più sereno, quasi il triplo, quindi diciamo riuscirei a gestire almeno la parte alimentare. Innamorato della natura e del mare, Roberto da ragazzo ha girato il mondo in barca a vela facendolo skipper. Ma la vita di mare prevede mesi di lontananza da casa e non la puoi continuare quando, da solo, devi tirare su due figli. La passione per la natura però non è svanita e con l'aiuto della famiglia e il supporto del reddito, ora il suo sogno sarebbe quello di aprire un'azienda agricola dove produrre miele, oli essenziali, prodotti biologici. Cosa stai facendo per portare avanti questo progetto? Raccontacelo bene. Facciamo un corso di apicoltura base, io e il figlio grande. Lo stai già facendo? Sì, già da quasi tre mesi, dura ancora un po', è molto interessante perché ti evita di fare tanti errori che faresti, sennò iniziando da solo. Dopodiché l'idea è di mettere, sì, un po' di fare un apiario, mettere un po' di alveari e non solo, proprio postare l'azienda agricola. Credo sia uno stile di vita migliore, specialmente che vivere in una città come Roma, dentro uno sgabuzzino. Quanti metri quadri è? Mi pare 16, più il soppalco ma non conterebbe. Quando eri ragazzo, avevi dei sogni, hai fatto quali studi? Cominciai a navigare, andare per mare, avevo dei sogni, sì, di vedere un po' il mondo, di mettere su un'attività turistica, vivere un po', insomma, in modo più decente delle prospettive che avevo davanti. Poi mi sono sposato, e niente, per varie ragioni, mi ritrovo qui adesso con i tuoi figli, da 11 anni con me. Quindi hanno la mamma al di là dell'oceano? Sì, è tornata di là, solo che dopo una separazione ho avuto io un affidamento, si dice tutto. Come si vive con 706 euro? Perché tu non lavori, neanche tuo figlio lavora in questo momento, state facendo questo corso. Come si sopravvive con 706 euro? Eh, si sopravvive, è giusto, il minimo indispensabile. Mangiare, poi, non basta. Sai che tante persone dicono, vabbè, gli diamo il reddito e la gente è incentivata a non lavorare perché tanto comunque così ci campa. Che cosa vuoi dire a chi pensa che siate dei parassiti a careco nostro? Bastano al momento per tenere un sorriso.